Ciao ciao, ciao ciao. Best Made Grape nasce da un gruppo di partner che lavorano insieme da anni. Gianluigi Bacchette è a capo del team che collabora su vari progetti nell'ambito della ricerca e del trasferimento tecnologico nel bacino del Mediterraneo. Le due cose più importanti che più mi piacciono di questo progetto sono la possibilità di condividere e di sviluppare delle azioni in maniera sinergica con quelli che non sono semplicemente dei partner ma sono degli amici con cui da tanti anni si lavora in maniera produttiva ed in secundis la possibilità di sviluppare con processi ecosostenibili delle attività in un contesto mediterraneo dove la coesione è di fondamentale importanza. Noi all'interno dell'orto botanico abbiamo la banca del germoplasma della Sardegna che è una struttura che riceve tutti i materiali dalle vigne. Con queste attività noi riusciamo a caratterizzare tutti i vitigni delle uve che sono state oggetto del progetto e al tempo stesso a sviluppare attività che possono servire agli agricoltori, ai viticoltori in particolar modo per quanto riguarda la coltivazione in situazioni di forte aridità o di stress salino.